Ben trovati su ideawebtv.it, momento dedicato allo sport, domenica 30 settembre a Cherasco andrà in scena la seconda edizione di Cherasco Eco Futura 4 Running. E nella circostanza ci sarà davvero un testimonial di eccezione, per lui parla davvero un cursus honorum ricchissimo, su tutti spica naturalmente l'oro olimpico raccolto a Seul nella maratona nel 1988, stiamo parlando di Gelindo Bordin che è qui con noi. Buongiorno Gelindo. Buongiorno, ciao a tutti. Sì, naturalmente questo è un periodo di grande fioritura di corse su tutto quanto il territorio nazionale, segnale naturalmente che il running è uno sport che non conosce flessione, va oltre le mode e coinvolge tutti. Sì, diciamo che è una delle specialità nello sport che sta crescendo di più in assoluto, da un lato l'evoluzione di questo sport che è passato da appassionati veri e propri, quindi che interpretavano la corsa come un'attività sportiva agonistica ad appassionati che adesso corrono soprattutto per far salute. Quindi da un punto di vista culturale si è evoluta molto, la gente si avvicina non solo per fare sport, non solo per far salute ma anche per stare insieme, grazie anche ai grandi eventi che ci sono a livello internazionale, nei grandi maratoni. E naturalmente poi la crisi aiuta anche lo sviluppo di questo sport, perché è uno sport che costa relativamente poco, perché alla fine è un buon paio di scarpe, una mela maglietta che traspira e uno può fare veramente tutta l'attività che vuole senza dover impegnarsi a impegnare altre risorse. Questo va un po' a discapito soprattutto della palestra, perché comunque l'attività in palestra è un'attività importante, però richiede comunque un'iscrizione. Ecco, dal momento che abbiamo un interprete così autorevole del podismo, Eco Futura 4 Running si svilupperà su un percorso di circa 9 km, molti magari saranno coloro che per la prima volta si cimenteranno su una distanza di questo tipo. In conclusione vogliamo chiedere a Gelindo, come preparare una gara, una competizione di questo genere? Beh, è una distanza intelligente, tra virgolette, perché è alla portata di tutti. Non ci vuole una preparazione lunga, perché ci si può avvicinare abbastanza facilmente. è quello che consiglio, non tanto per poterla portare a termine, perché bene o male l'uomo è nato per correre, però per poterla fare con estrema facilità, almeno allenarsi due o tre volte alla settimana, per un paio di mesi prima, così uno si avvicina alla gara più preparato e naturalmente riesce anche a percorrere la distanza con più facilità. E chi volesse invece affrontare una maratona, i tempi di preparazione naturalmente sono più alti. La maratona è un discorso diverso, anche se ormai è diventata anche questa una distanza, tra virgolette, alla portata di tutti. Rispetto a tanti anni fa, dove la distanza era una distanza epica, dove si vedevano gli atleti che svenivano, parlando di Don Ando Petri che addirittura ha perso la medaglia d'oro alle Olimpiadi, perché non è riuscito a trattare il traguardo da solo, proprio cadendo al suolo pochi metri prima del traguardo. L'evoluzione di questo sport ha portato a che comunque anche nella maratona ci si potesse avvicinare tantissima gente. Chiaramente va preparata, va preparata soprattutto per evitare di avere degli scompensi fisici, perché comunque parliamo sempre di 42 km, parliamo di atleti che stanno fuori anche 5-6 ore. Quindi va preparata nel tempo, io consiglio sempre di preparare con molta calma, quindi partire anche 6 mesi prima, cominciando con pochi chilometri all'inizio, e poi incrementare man mano la distanza e anche le velocità di percorrenza. Ripeto, secondo me alla maratona più o meno tutti si possono avvicinare, però bisogna rispettarla, perché da un lato c'è la parte della sudorazione, quindi una dispersione di liquidi enorme, quindi bisogna integrarli bevendo. Dall'altro comunque abituare il corpo a consumare la benzina giusta, che non è solo fatta di zucchero ma è fatta anche di grassi, quindi miscelare queste due sostanze che abbiamo all'interno del corpo per poter raggiungere la distanza senza avere grossi problemi. E Gelindo Bordin sarà protagonista questa sera al Teatro Salomone, a partire dalle ore 20 e 30, per la cerimonia di presentazione di questa seconda edizione di Cherasco Ecofutura For Running, e noi naturalmente lo ringraziamo per essere intervenuto qui su ideawebtv.it. Un grande buon calupo a tutti quanti e a tutti i maratoneti naturalmente.